Allora raga, ho pubblicato questa foto perché un anno fa è successa anche a me la stessa cosa che è capitata a Guè E ho tenuto una cosa molto nascosta, però in questo momento mi sembrava giusto supportare un collega in questa situazione Ora vi spiego Allora raga, a me è successo questo Praticamente l'anno scorso mando una foto a Valentina Al tempo non ci conoscevamo, io mi stavo approcciando Invece di mandarla solo a lei l'ho messa pubblica su Snapchat Quindi raga in realtà poi questo approccio violento ha fatto sì che io facessi colpo su questa ragazza E quindi raga invito tutti a farlo, però fate attenzione a non metterlo pubblico Purtroppo raga la foto originale è stata cancellata da tutti i siti che l'avevano ripubblicata Quindi probabilmente non la potrete vedere a meno che quella notte non eravate svegli e avete screenshotato Oppure ve la passa vale